La categoria dedicata agli interpreti, che ha fatto più discutere al momento dell'annuncio delle nomination per la clamorosa esclusione di Amy Adams, sarà caratterizzata da uno spettacolare duello per la vittoria finale, quello tra la regale e magnifica Natalie Portman di Jackie e la deliziosa e travolcente Emma Stone di La La Land. Vista la vagonata di nomination portata a casa dal film di Damien Chazelle, la rossa sembra avere un certo margine sulla rivale, tanto più che Natalie un Oscar l'ha già vinto, ma resta il fatto che questo sarà uno degli scontri più affascinanti della serata, con la favorita che ha incantato tutti cantando, ballando e sbattendo le ciglia a Ryan Gosling e l'altra che ha incarnato con grazia e decisione la mai dimenticata Jacqueline Kennedy. Accanto a loro la signora degli Oscar Meryl Streep, alla ventesima nomination per una prova non particolarmente di sostanza, ma certamente divertente nella commedia di ispirazione biografica Florence. E poi un'altra attrice straordinaria, ma alla sua prima candidatura, l'impavida Isabelle Juppert, in nomination per il ruolo controverso e spiazzante nel bellissimo Elle di Paul Verhoeven. Ultima, ma non per importanza della cinquina, la soave Ruth Negga, che ha conquistato l'attenzione dell'Academy dando vita a Mildred Loving, riluttante e splendida eroina dei diritti civili negli Stati Uniti.